Wilevis Brito, giovane di 23 anni, famosa per le sue partecipazioni a vari concorsi di bellezza, è scomparsa dopo aver subito un intervento chirurgico maxillo-facciale. Questo intervento da lei scelto per risolvere alcune problematiche di salute ha purtroppo portato a complicazioni che hanno causato questo tragico evento. La tragedia si è consumata a Caracas, sua città di residenza, poco dopo il suo ritorno dall'Argentina. Al momento i dettagli sull'accaduto sono ancora scarsi. La giovane aveva deciso di sottoporsi a un intervento per correggere l'articolazione della mandibola e della mascella, oltre che per rimuovere un nodulo dal labbro superiore. Inizialmente sembrava che tutto fosse proceduto per il meglio, ma poi la situazione ha preso una piega drammatica e l'8 aprile ha perso la vita. Sembra che si siano verificate complicazioni legate al sistema respiratorio e cardiaco, come ha raccontato un'amica della modella, 24 anni visibilmente sconvolta. È inconcepibile che una giovane così piena di vita e felicità possa giungere a una fine così tragica. L'intervento sembrava essere andato bene in un altro contesto, un medico famoso in televisione si trova nei guai dopo essere stato coinvolto in un caso di interventi di botox in cambio di favori sessuali con una modella di holly fans. Will Levis aveva ottenuto riconoscimenti per la sua bellezza, tra cui il titolo di regina dello sport al concorso Miss Venezuela nel 2023. Era anche nota per il suo lavoro come giornalista e presentatrice in vari programmi televisivi. In passato aveva attirato l'attenzione mediatica per aver denunciato di essere stata vittima di violenza di genere. Era molto attiva sui social media con 12.800 seguaci su Instagram.